Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Vister e oggi siamo qui tornati su Brawl Rico Oggi torniamo qui alla modernità e proveremo ad arrivare al grado 21 Se non al grado 22 ragazzi, i trofei si fanno in fretta, quindi c'è la possibilità Cominciamo subito Vai Ma Ma Cos'è successo? Eh shelly con le energie, mo che mh Ho scoperto tutto Uh, 4 energie con una cassa e vai Ma lì, come si salva? Ah ecco Siamo diventati come al solito il nemico pubblico Dobbiamo scamparcela Eh eh eh, ci voleva questa ventata di mare Per poter un po' contare in più appunto Perché è finita E invece Non è finiiiit Nooo Eh Ufff Ufff E ora E ora E ora E ora E ora Scusi Beh, non poteva vincere dai eh Grado 21! Che preferisci farsi un'azienda? Questo è un insulto! Vaci! Il pro team, bravo! Bello affumare, eh? Bello affumare! Ah, usi il gadget? Grazie, visto che mi hai rubato l'energia! Grazie! Grazie! No, no! E dai! Mi sparo da qui perché queste cose non funzionano! Mi prego basta! Si sono attivate le chat del 2012, del 2012 per andare a rompermi, è impossibile! Ma dai! Ma dai, non esisto solo io! Quello che ti meriti! E vabbè dai, i corbi li amo ma lo stesso tempo li odio! Ecco, ecco perché li odio! Dai! E niente, è finito! Nooo! Eh, non è finita! E invece, se ne va! Ancora! Ma basta! Il grado 22, ragazzi! Così! Ho più troppo in sto account che il mio primo account, questo problema è assurdo! Quindi, ragazzi, anche questo episodio è terminato! Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!